Il segreto è che andiamo ben forti, la partita è molto concentrata e vogliamo che se seguiamo così, il nostro obiettivo è subire a Serie B. Il secondo me è Santa Marinela, Cisco Roma e Estela Zurra, ma non importa di noi, venire il campionato, ma non importa di noi.